Musica Bentornati all'edicolo del Barvalter, il vostro Stefano Troilo che vi parla. Non ho mangiato tante uova di Pasqua, abbiamo fatto una settimana di pausa. Siamo tornati qui per questo finale di stagione sportivo sempre più avvincente. Stanno volgendo al termine alcuni campionati, lo vedremo in una piccola carrellata di risultati che faremo, e tanti altri campionati, tante altre compagini entrano proprio nel vivo della stagione. Quindi all'inizio di questa puntata invito tutte le squadre che si stanno giocando qualcosa, salvezza, promozione, playoff, playout, campionati, risultati che attendono dagli altri campi, a venire qui all'edicolo a nostri ospiti che sicuramente gli daremo quel pizzico di fortuna che gli servirà a raggiungere l'obiettivo perché, lo ricordiamo, i fatti lo dicono, l'edicolo del Barvalter porta bene, quindi vi aspettiamo. Piccolissima carrellata proprio mischiando tutti gli sport, tutte le palle come piace a noi. Allora, l'All Games San Salvo purtroppo, parliamo di calcio a 5, sconfitta 6-3 in casa da Real Raiano. A Chieti, sabato prossimo, se non erano, nel prossimo weekend si giocano tutto quanto, si giocano la salvezza, quindi un grande in bocca al lupo a Perazzoli, a Dighionno, a tutti gli amici, a Lanza naturalmente, a tutti gli amici dell'All Games San Salvo che aspettiamo se hanno bisogno appunto di un pizzico di fortuna. Gli amici del basket, quindi passiamo al basket, senza saveri eccellenza, purtroppo sconfitti dalla Pentateramo 82-50, un brutto passivo, però comunque sappiamo le realtà del Terramano quanto siano forti per quanto riguarda la palla a spicchi. Voliamo in prima categoria girone B, qui c'è l'amico Cristian Ercolano e proprio cade a pennello, pareggio del Monteodorisio 1-1 contro il Palombaro, insomma nel big match di Dighionnata, bellissimo gol di Madonna mi dicono, peccato per il Monteodorisio, poteva sfruttare insomma il fatto di avere la gara in casa. Nello stesso girone un altro pareggio, un altro 1-1, in quel di Celenza, tra Trinio Celenza e in coronata calcio vasto, 1-1 Smiles-Barisano, però proprio a Pasquale Smiles che abbiamo avuto qui è stato annullato un gol che insomma chi c'è stato a vedere la partita mi ha detto che era regolare, regolare secondo i più, insomma dopo una veronica Pasquale si è girato e ha concluso a rete. Il difensore del Trinio Celenza è caduto, l'arbitro ha giudicato questo intervento di Pasquale come falloso, ma ripeto non perché siamo molto amici dell'incoronata, chi c'è stato mi ha detto che era insomma che era regolare, questo gol sarebbero stati tre punti davvero fondamentali per l'incoronata, però insomma vedremo anche con i risultati che si sono andati a incrociare, le speranze insomma di mantenere la categoria sono ancora tante per l'incoronata e gli facciamo di nuovo un in bocca al lupo. Eccellenza, la vastesi ha riposato, sapete tutti era da calendario la sfida con il Borrello che insomma ha lasciato il campionato da qualche mese, San Salvo-Vastomarina 1-0 presso il nuovo campo rifatto, insomma ristrutturato del Bucci, 1-0 per i san salvesi, purtroppo c'è da registrare un errore dal dischetto del mio grande amico Michele Cesario che purtroppo non è riuscito a segnare dagli 11 metri e il San Salvo si è giudicato questa sfida appunto 1-0 nei confronti del Vastomarina. Torniamo al basket con la BCC Vasto Basket, ultima partita in casa, sconfitta di tre, 65-68, dal Martina Franca appunto al pala BCC, è stata la partita di congeto per coach Sandro Di Salvatore che insomma aveva lasciato immaginare che fosse stata questa l'ultima stagione con la BCC Vasto Basket, si conclude un quadriagno davvero fantastico, pieno di soddisfazioni. Ho letto un post su Facebook di Luigi Cicchini in cui ringraziava il coach e sono arrivati per lui parole davvero al miele da tutti i giocatori che sono stati allenati a lui in questi bellissimi quattro anni a basso. Quindi un in bocca al lupo a coach Di Salvatore e un grazie da amante dello sport di Vasto, un grazie per quello che ha fatto per Vasto o per Basso Basket in questo caso. Palla a volo, la TCM Group BTS San Salvo, un secco 3-0 rifilato al Pescara, una grandissima vittoria, abbiamo visto un'esultanza davvero sfrenata di Bozzella che abbiamo visto anche dalle foto che potete trovare naturalmente sul sito di Zona Locale. Quindi sabato ci sarà l'ultimo ostacolo per quanto riguarda i ragazzi della BTS San Salvo. Torniamo al calcio, abbiamo qua già i nostri ospiti, mister Nicola Di Martino e Gennaro Migliascio che non so se definire il factotum diciamo, insomma io abbiamo avuto modo di sentirci collaboratore ma è riduttivo, anche perché ce lo dirà anche il mister quanto sia importante anche la tua figura. Naturalmente con loro parliamo di Vastese Juniores e di Vastese Femminile, due realtà molto importanti, la stagione potrebbe andare bene, potrebbe andare peggio, va bene, parleremo con loro. Oggi sarà l'ultima partita dei ragazzi all'Aragona ma ci facciamo dire tutto quanto da loro. Mister, un giudizio a 90 minuti dalla fine del campionato sulla Juniores prima di tutto. Intanto grazie per l'invito, il giudizio è difficile dare in due parole il giudizio su una stagione che è stata veramente difficile quest'anno per tanti motivi che poi elencarli ci vorrebbe un sacco di tempo ma motivi che conoscono tutti giustamente. Noi ci siamo dovuti arrangiare quest'anno in un modo particolare, la stagione doveva andare in un modo per la prima squadra e che di conseguenza a ruota doveva seguire quella dell'Under 18 e invece le cose poi sono andate diversamente e non sta a me giudicare oppure analizzare i fatti perché non è di mia competenza. Da un punto di vista tecnico posso solo dire che noi della Juniores dell'Under 18 ci siamo fatti un mazzo veramente quest'anno pur di salvare questa categoria, ci siamo riusciti con un bel po' di anticipo. Sono contentissimo del lavoro che è stato fatto, dei ragazzi che si sono impegnati al massimo pur essendo ragazzi che non venivano da campionati simili, tutti quanti li abbiamo racimolati strada facendo, ragazzi che non avevano alcuna esperienza, quindi per noi è stato un grande merito tra virgolette aver valorizzato qualche ragazzino tipo qualche 98, ragazzini tipo D'Ambrosio, ragazzino che adesso sta giocando quasi in pianta stabile con la prima squadra e di cui siamo orgogliosi. Insomma, potevamo sicuramente fare qualcosa in più se avessimo avuto la struttura e per questo come struttura indico sempre campi di allenamento, orari e tante cose che sappiamo tutti a vasto. Niente, poi voglio ringraziare, naturalmente prima citavi il signor Migliaccio che non lo so se definirlo factotum o team manager o chissà, poi se lo sceglierà lui il titolo che più gli aggrada ma comunque è una persona che fa tante cose da solo, un lavoro incomiabile che fa da anni con me e quindi lo ringrazio pubblicamente adesso ma era sottinteso insomma. E poi voglio ringraziare anche, visto che siamo agli sgoccioli del campionato, anche il presidente bolognese che è stata una persona che veramente ha dato tutto quello che aveva per quest'anno del 18 e grazie a lui se abbiamo sempre presente, se ci hai sempre aiutato e quindi lo voglio ringraziare pubblicamente insieme a tutti i ragazzi che hanno dato una mano a questa squadra insomma. Allora a Migliaccio appunto voglio allora cercare di entrare proprio in quello che ha detto il mister che cosa è mancato a questa squadra sicuramente, tra virgolette, non per colpe vostre per fare quel salto di qualità, le cose positive ci sono state, le ha elencate anche il mister Diciamo che insomma la situazione della prima squadra purtroppo ha influito sicuramente anche su di voi quindi che cosa spera chi lavora e lo fa con molta passione come voi per i ragazzi per il prossimo anno? Innanzitutto devo ringraziare i complimenti che mi ha fatto il mister con cui sono anni che collaboriamo mi associo ai saluti a Bolognese Presidente che non ci ha fatto mancare assolutamente nulla quest'anno è stata una persona molto vicina, ci sentiamo sempre, non ci fa mancare nulla e di conseguenza anche i ragazzi che sono venuti da fuori Allora, cosa è mancato alla Vastese? Quest'anno io mi limito soltanto a parlare del nostro campionato e della nostra squadra perché l'abbiamo vissuto in prima persona e abbiamo toccato con mano le difficoltà che ci sono state Per noi è stata un'annata straordinaria era gli ultimi giorni di agosto perché come tutti sapete ogni anno purtroppo Vasto si ripete sempre la stessa storia si fa, non si fa, va bene, non va bene destro, sinistro, sopra, sotto eccetera eccetera noi come al solito ci siamo rimboccati le maniche abbiamo trovato un gruppo di ragazzi che erano già nella squadra però erano pochi, abbiamo cercato di prenderne altri e come ha detto il mister, i ragazzi che sono venuti da noi non è che erano la prima scelta perché come sanno gli addetti ai lavori quando devi trovare dei ragazzi a settembre a settembre trovi sempre dei ragazzi che magari o non vogliono andare più a giocare o sono stati svingolati dalle società nonostante questo le difficoltà ci siamo messi all'opera abbiamo stretto amicizie con parecchie persone ahimè fuori regione e anche cioè fuori regione perché nella zona era difficile stringerle era difficile stringere amicizie con persone del posto con persone, con squadre del posto ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo dato la nostra esperienza ai ragazzi i ragazzi hanno risposto benissimo naturalmente essendo i ragazzi la prima esperienza fuori casa perché parecchi sono stati qui, hanno dormito qui li controllavamo siccome non erano ragazzi abituati a questo alcuni si sono trovati male alcuni magari non andavano a scuola noi essendo responsabili abbiamo preso dei provvedimenti anche drastici qualcuno è andato a casa qualcuno l'abbiamo andato via si siamo trovati con pochissimi ragazzi quelli che sono rimasti però si sono rimboccati le maniche hanno capito quello che volevamo erano sempre presenti all'allenamento in partita avete visto anche voi tante volte eravamo contatissimi nonostante quello l'ultimo periodo del campionato è stato un campionato bellissimo non abbiamo fatto più risultati negativi in pochi ci sono stati ragazzi che hanno giocato anche prima squadra come Gabriele D'Ambrosio che spero che continui a essere in pianta stabile titolare anche se un fuori quota è alle prime armi l'anno scorso ci faceva gli allievi provinciali dagli allievi provinciali trovarsi in eccellenza titolare è stata una bella esperienza per lui e finito quest'anno noi ci auguriamo che l'esperienza che abbiamo vissuto quest'anno non la ripassiamo se dovessimo rimanere alla vastese di non ripeterla perché quest'anno è stato vicino all'infarto tutto quello che è successo l'anno prossimo vogliamo stare più tranquilli anche perché vogliamo partecipare a un progetto serio a una programmazione finalmente in un certo modo e a collaborare come si deve con tutto lo staff e con tutto l'ambiente sportivo vastese perché quello è mancato quest'anno tu mi dicevi cosa secondo me è mancato quello la cosa fondamentale alle volte quando parlavamo di vastese tutti ci davano contro tutti ci remavano contro e allora noi che ci teniamo per il lavoro che abbiamo fatto per il sudore che abbiamo cacciato per tutto il tempo che abbiamo perso siamo andati avanti lo stesso non abbiamo guardato in faccia nessuno senza pensare alle critiche senza pensare ad altro comunque siamo andati avanti lo stesso ci siamo riusciti siamo contentissimi e orgogliosi di quello che abbiamo fatto guarda voglio spendere due parole personali per quanto concerne il vostro lavoro con il mio grande amico Angelo Di Cicco che saluto abbiamo seguito praticamente tutto il campionato della vastese e abbiamo avuto proprio l'impressione della passione personale con la quale sia Di Martino sia Migliaccio bolognese proprio personalmente parliamo proprio delle piccole cose come interessarsi se il ragazzo in questione aveva fatto il compito in classe ed era andato bene se stava influenzato cioè questi signori hanno fatto proprio da anche educatori anche da zii a questi ragazzi lo voglio dire perché l'ho visto ci sentivamo prima delle partite dopo le partite a fine primo tempo come va magari Migliaccio mi dice guarda c'è tizio che ha l'influenza c'è tizio che ha preso 4 a scuola e sta triste perché i genitori hanno messo in punizione quindi parliamo proprio di cose che quando si tratta di lavorare con ragazzi di 16 a 7 anni sono fondamentali quindi di questo vi faccio assolutamente un plauso personale poi mi voglio mettere tra virgolette insomma un po' di zizzagna Migliaccio ha detto che non è facile magari lavorare e trovare accordi con altre realtà calcistiche di vasto chi si è non lo so sentito magari chiamato in causa se vuole venire qui all'edicola a tra virgolette rispondere a Migliaccio è il benvenuto quindi noi non lasciamo assolutamente nessuna cosa così nell'area Volevo solo chiarire una cosa non è che non è difficile avere contatti con queste squadre è soltanto che giustamente la realtà vastese la squadra della vastese è una squadra che comunque punta ai massimi vertici ogni anno e allora i ragazzi che magari preferiscono rimanere nelle loro realtà per non rischiare magari di perdersi di bruciarsi allora magari loro preferiscono stare in queste squadre del posto magari hanno gli amici il gruppo sono tutti conoscenti eccetera eccetera e rimangono tra di loro non avendo magari ambizione di poter salire magari esatto magari qualche qualche altra squadra che non è del posto magari qualche altra società che vuole lanciare vuole far crescere dei ragazzi è più disponibile a magari a mandarteli a fare un'esperienza fuori regione fuori casa come è avvenuto quest'anno ma non perché noi siamo tutti amici con le società sportive di Vasto che salutiamo ringraziamo anche ci siamo trovati tante volte insieme ad allenarci per carità non abbiamo mai avuto problemi era solo per chiarire che non è che ci sono contrasti chissà di che cosa solo perché magari qualche volta i ragazzi preferiscono rimanere dove stanno perché magari si trovano bene e hanno paura di fare il salto di qualità tutto qui e poi ripeto senza fare polemiche quando poi qualcuno dice ma la Vastese sono tutti di fuori evidentemente sono tutti di fuori perché il ragazzo di Vasto o non viene dato da altre scuole calcio oppure non se la sente di provare a fare questo salto di qualità perché magari la maglietta della Vastese lo diciamo pesa pesa anche quella Juniors forse ci si trova con molti ragazzi di fuori con le difficoltà che hanno i ragazzi di fuori perché devono vivere qui quindi case insomma è più facile gestire sicuramente un ragazzo di Vasto che è qui a casa con la famiglia che non tanti ragazzi fuori parliamo ricordiamo di ragazzi di 16-17 anni al massimo 18 quindi mister Di Martino una chiosa poi con la giornata di oggi che penso sia soprattutto una una festa l'appuntamento di oggi con il Migliani come dicevate 15-30 all'Aragona anche un bel premio insomma per questi ragazzi giocare l'ultima partita all'Aragona che insomma è un campo nonostante altra tiratina d'orecchia chi di dovere non è tenuto benissimo però è un campo che insomma che trasuda la storia da ogni zolla e tutti i tifosi della Vastese ci sono affezionati quindi sperando di riportarlo in auge è giusto concedere ai ragazzi una giornata di festa come quella di oggi e poi se davvero questa Angolana o qualche altra squadra era davvero tanto più più forti di voi o di tante altre compagini insomma quella che vi ha impressionato di più ricordiamo tra l'altro la vittoria proprio contro l'Angolana gli ultimi minuti bellissima 3 a 2 un mesetto fa ricordo fu una grande partita e sugli spalti abbiamo ricevuto da tifosi qual era anche con Ernesto i complimenti di un dirigente dell'Angolana che si era stupito dire ma come senza il campo senza eh però la squadra ce l'avete mi disse proprio queste parole insomma prendendomi anche a me per uno della società pensavo sì indubbiamente vabbè ritorniamo all'Aragona perché lei dicevi prima dell'ultima partita io penso che sia giusto giocare all'Aragona l'ultima partita perché proprio per dare non dico che un premio perché poi è una partita come tante altre però giocare nel diciamo così nel campo mitico dell'Aragona penso che per i ragazzi sia una grande soddisfazione visto che durante l'anno non ci possiamo mettere mai piede e quindi questo è una festa e quindi la partita di oggi è una partita che è vero che è una festa ma io la voglio vincere pure questa perché comunque a noi questi punti servono per risalire un po' la classifica per posizionarsi a metà classifica come è giusto che sia per il valore attuale di questa squadra e intanto è vero che abbiamo vinto anche il recupero con l'Acqua e Sapone giovedì andandoci a giocare questa partita con la voglia di vincere e che poi è lo spirito della mia squadra che non si arrende mai questo deve essere riconosciuto perché chi è venuto a vedere delle partite nostre nei momenti in cui eravamo diciamo così competitivi cioè con tutti i ragazzi all'organico noi non bisogna dimenticare che questa squadra quest'anno ha vinto col San Salvo ha vinto con l'Arenato Curangolana ha preso punti a tutti diciamo così quindi noi Cupello Vasto Marina cioè non dimentichiamo questo piccolo particolare che la Vastese non vinceva con il Vasto Marina da 4-5 anni quest'anno ha fatto un pareggio una vittoria col Cupello abbiamo pareggiato tutte e due le partite con River abbiamo vinto in casa col San Salvo la stessa cosa con l'Angolana abbiamo vinto in casa con River abbiamo vinto in casa quindi noi abbiamo fatto qualcosa che va oltre le nostre più rose aspettative fin quando stavamo diciamo così poi per i problemi che Migliaccio aveva elencato alcuni ragazzi hanno dovuto andare via per problemi scolastici problemi familiari per tante cose che poi non stiamo qui erano ragazzi 16-17 anni e le cose sono cambiate un pochino ma non è questo il problema quindi noi siamo contentissimi insomma dell'annata lo torno a ripetere i ragazzi hanno dato tutto siamo felicissimi insomma di quello certo col senno di poi si poteva fare molto meglio ma chi non conosce i settori giovanili e lavorare nei settori giovanili non può capire qual è la difficoltà di questo mestiere perché allenare squadre di adulti è un conto il settore giovanile è un'altra cosa ci sono a mio modesto parere che lo faccio da anni tante più soddisfazioni perché puoi dare quello veramente il senso di quello che pensi tu di fare i ragazzi lo recepiscono in modo diverso dagli adulti che ormai sono già fatti come giocatori però è difficilissimo lavorarci è difficilissimo lavorarci se non hai delle basi delle strutture tutto qui ma poi le soddisfazioni sono le più belle ma sicuramente sicuramente va benissimo misterio ti ringrazio con migliaccio proprio un flash sulla femminile che ultimamente non sto seguendo com'è la situazione allora con la femminile è stato fatto è stato compiuto un altro miracolo perché quest'anno oltre a essere un'annata straordinaria è un'annata eccezionale per queste ragazze immagina che queste ragazze ormai sono parecchi anni che giocano sempre insieme venivano a giocare venivano a giocare per fare gruppo per fare la partita domenicale quest'anno invece è stato diverso perché comunque abbiamo cercato di inculcare specialmente il mister una mentalità diversa una mentalità più sportiva una mentalità più agonistica e i risultati devo dire che sono venuti perché ora siamo quarti in classifica siamo in semifinale di Coppa Abruzzo e se andiamo in finale sarebbe un evento molto un evento storico le ragazze veramente sono state brave a venire sempre agli allenamenti anche quando andiamo in trasferta sono sempre puntuali e ultimamente vuoi per guai fisici vuoi per qualche defezione dell'ultimo momento oddio le ragazze magari hanno mollato un po' però questo non inficia il lavoro che è stato fatto dall'inizio che è un lavoro veramente incomiabile da parte di tutto lo staff da parte del mister da parte mio da parte dell'altro collaboratore che oggi non c'è Luigi che viene con noi ci segue le ragazze pure la sera quando vengono dopo il lavoro sono stanche però comunque si allenano fino a tardi ora domenica andiamo a giocare all'Aquila e la prossima andiamo finiamo in casa con il Bellande diciamo sarà un'altra festa per tutto l'ambiente sportivo e poi ci giochiamo la semifinale con l'Ortona speriamo di andare in finale che sarà veramente una cosa incredibile la prima volta che avviene che noi sappiamo non è mai successo e vogliamo dare questa gioia almeno per la finale perché la finale sarà una partita durissima perché diciamo le vincenti tra Pescara e Castelnuovo che sono le altre due semifinalisti sicuramente quando una delle due andrà in finale vorrà o uno o l'altro vendicarsi di quello tra virgolette vendicarsi del campionato e della Coppa che sicuramente vorrà vincere ma noi va bene così siamo contentissimi e noi ci auguriamo che l'anno prossimo questa squadra non vada a perdersi perché tutti i lavori fatti quest'anno è un peccato non vederlo riprendere poi successivamente va benissimo allora in bocca al lupo alle ragazze che aspettiamo qui così pure per avere una presenza femminile e infatti tra l'altro questi signori si dedicano anche alla femminile quindi proprio insomma tempo per il lavoro e le famiglie è veramente risicato quindi ancora un complimento a voi davvero personale perché ho seguito la squadra tutto l'anno signori è stato un piacere in bocca al lupo ci vediamo oggi pomeriggio perché verrò sicuramente a tifare per i ragazzi come abbiamo fatto tutto l'anno grazie mister e grazie a Migliaccio allora al volo proprio voglio chiamare il presidente come lo chiamo io il presidentissimo il mio grande amico Domenico Zillotti facciamo i formali prego si accomodi facciamo finta che non ci conosciamo lo dico sempre il mio primo ospite qui all'edicola del Barvalte l'anno scorso quindi rimane l'ospite speciale per quanto mi riguarda la che star la che star dell'edicola Real Portapalazzo Real Montalfano 3 a 2 ieri ieri pomeriggio e quindi come andrà a finire questa stagione parliamo naturalmente di seconda categoria Girone G beh allora come andrà a finire come andrà a finire personalmente non lo so però diciamo che adesso è una lotta diciamo si fa abbastanza serrata perché diciamo siamo tre squadre in due punti praticamente quindi siamo noi terzi ultimi poi c'è il Villa Scorciosa a un punto sopra e il Barrio Tourdeau a due punti sopra per cui diciamo che ci aspettano tre finali vedremo un po' come andrà la situazione ieri è stata una bella partita una una grande gara diciamo anche perché l'avversario era sicuramente più quotato di noi anche perché lottava e lotta ancora per un posto nei playoff e noi siamo stati molto bravi diciamo lo abbiamo contenuto siamo ripartiti abbiamo lottato insomma mi è piaciuta una bella partita risultato giusto gol ha fatto un gol raspa e poi ha fatto doppietta Savino che è un ragazzo che viene dell'Uniones della Vastese che era fuori età per giocare diciamo nel campionato di Uniones di quest'anno e ha fatto due bei gol per cui siamo stati molto soddisfatti poi per il resto c'è la partita importantissima domenica sabato contro il Fossacesia lì e poi c'è lo scontro diretto finale alla penultima in casa per Villa Scorciosa e la diciamo è andata la partita che è andata diciamo che sì questa partita è stata sospesa poi abbiamo giocato lì dopo una settimana diciamo anche dall'anno scorso sono un po' siete penso amici amici diciamo sì sì assolutamente è creata questa rivalità naturalmente buon'aria con il Villa Scorciosa incrociate spesso in partite che contano sì diciamo di sì e quindi speriamo diciamo che la squadra regga diciamo che regga questa pressione diciamo più che altro per evitare i play out perché diciamo poi quella è una lotteria lo sappiamo perché l'anno scorso noi abbiamo fatto la finale play off in casa del Carunchio che a cui bastava il pareggio per cui voglio dire è un terno all'otto è difficile sì ti voglio chiedere proprio persona cioè proprio in in tutta sincerità quanto è difficile ma quanto è bello poi quando quando la gente ti dice sì vengo a giocare quanto è difficile farsi dire sì da qualcuno a davvero zero euro perché tante squadre magari vi dicono no noi zero euro zero euro però non lo so se è vero di te ci posso mettere la mano sul fuoco che è veramente zero euro vero? sì zero euro a parte diciamo il kit sportivo però diciamo sì noi non abbiamo mai pagato nessun giocatore penso che finché la situazione rimanga questa siamo davvero soddisfatti perché cioè convincere un giocatore a venire a zero euro non è semplice ovviamente però è una soddisfazione soprattutto vincere con chi ne spende è una soddisfazione ulteriore però tutto sommato non è stato difficile convincere anche perché questi ragazzi lo satura diciamo era quella dell'anno scorso che hanno comunque preso zero euro quindi voglio dire non è stato difficile convincere i nuovi diciamo che qualche soldo sicuramente lo prendevano è stato più diciamo un fatto d'amicizia che diciamo a livello calcistico anche perché voglio dire convincere ad esempio un Michele Vino non è stato difficile che quindi chiaramente lui ha sempre giocato a calcio ha sempre preso soldi comunque e quindi voglio dire io tutta questa difficoltà non l'ho trovata ti dico la verità e e quindi vincere a zero euro chiaramente salvarsi a zero euro per me innanzitutto è un miracolo sportivo anche perché tutte quelle squadre che ci sono sopra o leggermente sotto hanno speso e quindi soddisfazione doppia poi ultimamente stiamo giocando anche bene per cui voglio dire giocare bene adesso la fortuna un po' ci sta girando grazie a Dio per cui alla fine tanto ti ho guadagnato spendere zero e vincere è il sogno di tutti voglio dire però già noi che ci vorremmo salvare diciamo al zero euro quando ci riuscissimo sarebbe una soddisfazione doppia invece io mi devo prima ho detto di tirare dietro mi tiro le orecchie da solo e non ancora vengo a vedere una partita vergognoso solamente faccio chiedovenia verrò forse proprio proprio eh dai quando servirà a venirvi a portare fortuna Domenico io ti saluto se vuoi salutare qualcuno della squadra io saluto indistintamente tutti i giocatori l'allenatore Roberto ha fatto tanti sacrifici come noi e quindi diciamo no non facciamo saluti ad occhi diciamo salutiamo tutti e va bene allora grazie a voi Stefano grazie con Domenico è stato davvero ci siamo sentiti ieri sera gli ho scritto su whatsapp e ho detto come no vengo subito perché appunto c'è un canale particolare con Domenico e con il Real Portapalazzo che ricordiamo per chi non lo sapesse è una storica realtà calcistica di Vasto riportata in auge l'anno scorso grazie qua lo possiamo dire grazie soprattutto a questo signore che è qui Domenico Zillotti un saluto a tutti da Leti Corriere Bar Walter e ci vediamo lunedì prossimo grazie a tutti